Forse è lo scopo di tutti, no? Se dovessimo prendere un comune di un territorio di 200 persone qua, ma in realtà di tutti i 60 milioni di italiani, degli 8 miliardi che compongono questo mondo, scrivetelo, tutti noi vogliamo essere più felici. Perché è l'unica vera cosa che riempie la vita, che dà senso alla vita. Ma allora, quando siamo più felici? Partiamo da qui. Perché forse possiamo usare anche questi tre giorni con questo tipo di vocazione. Forse possiamo prenderci l'impegno di essere più felici. Possiamo uscire da qui domenica con la volontà di fare il pieno e di portarla fuori, questa felicità. Perché ce n'è bisogno là fuori? Sì o no? Allora, le persone felici hanno una serie di tratti comuni. Le persone felici, innanzitutto, hanno uno stato d'animo. Up. Hanno un livello di energia alto. Tant'è vero che provate a pensarci. Siccome ogni stato d'animo corrisponde anche a una fisiologia, provate a farmi tutti quanti in questo momento la fisiologia, cioè il corpo di un depresso. Va bene così? Invece com'è il corpo, la fisiologia di uno che è carico, di uno che sta bene? Perché vi invito a distaccarvi dalla sedia, ad esempio? Perché lo schienale è fatto per andare a teatro, per andare al cinema, per partecipare ad una riunione in cui ascolti. Non è fatto per fare un lavoro immersivo come quello che facciamo. Noi faremo noi in questi tre giorni in cui vuoi imparare. Non è fatto per questo. Lo schienale abbassa... Guardate, da così a così cambia tutto. Appena vi raddrizzate, scrivete, raddrizzarsi fa la differenza. Non pensate sempre male, porca miseria. Ma è la verità. Guardate, da questo punto di vista dovremmo renderci conto che questa è una chiave già interessantissima. Perché il nostro cervello non distingue la realtà da ciò che riproduce. E quindi, se noi non siamo felici, ma usiamo il corpo da felici, diventiamo più felici. Non mi credete che il cervello umano non distingue la realtà dall'immaginato? Parate a pensarci, avete mai visto... Chi di voi ha visto Titanic qua? Chi di voi ha pianto alla fine? Chi di voi l'ha rivisto? Ed è finito uguale! È a ripianto! Era un film! Gliel'ha data! Era un film! Eppure ti sei talmente immedesimato. Eppure abbiamo visto un film dell'orrore. Chi di voi ha visto un film dell'orrore sapeva che era un film dell'orrore, ma vi siete cagati ad osso? Non avete dormito la notte con quella musichina? Ma il cervello non distingue. Per cui, se noi vogliamo essere più felici, in questi tre giorni applichiamo una tecnica importantissima. Scrivetela come se. Come se lo fossimo. Possiamo, no? È un ambiente protetto. Lo so che se andiamo fuori e arriviamo saltellanti, ballando col sorriso, ci dicono che cazzo hai fatto. Qua a San Marino vi dicono che hai fatto un corso con Spadoni, vero? Ma altrimenti è quasi strano che in questa fase, che la gente ti chiede come va, tu dici bene. Come bene? È stranissimo che dici bene. Perché è la fiera delle beghe, no? Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è questa. La seconda, renderci conto che le persone felici, tutte quante hanno un altro tratto comune. Le persone felici sono concentrate su quello che hanno. Invece, tutti gli altri sono concentrati su quello che gli manca. Ogni volta che noi ci concentriamo su quello che non abbiamo, siamo tristi. Ogni volta che noi siamo concentrati su quello che ci manca, siamo tristi. Provate a pensarci, non so. Un momento classico per tutti, la sera quando andiamo a letto, che è un momento di riflessione, un momento in cui la coscienza, che è il nostro organo spirituale, in qualche modo ci bussa, no? Allora, lì, tu vai a letto felice o triste, non in base a come è andata la giornata, o come va a quel momento. Tu vai a letto triste o felice in base a su che cosa sei concentrato. Però quante cose abbiamo? Quante cose puoi fare? E allora su che cosa ti concentri? Su quello che ti manca o su quello che hai? Perché se ti concentri su quello che manca, non saremo mai felici, saremo sempre eternamente insoddisfatti. Qualcuno mi ha parlato di realizzazione, dopo ne parliamo, è la verità. Scrivete, il mondo è pieno di gente che ha tutto, ma non è felice. Invece noi dobbiamo imparare ad apprezzare. Ecco la terza cosa. L'apprezzamento. La gratitudine. Le persone felici hanno alto apprezzamento, alto gratitudine. Le persone che invece hanno alte aspettative, sempre, tendono a incazzarsi, tendono ad essere infelici. Allora noi dobbiamo essere bravi qua. Scrivetelo. Noi dobbiamo imparare nella vita a abbassare le aspettative e alzare l'apprezzamento per quello che abbiamo. Se no ci incazziamo sempre. Se no ci arrabbiamo sempre. Se no siamo eternamente infelici. E poi, ultima cosa che ci serve per legarci al primo esercizio che voglio fare, al primo strumento che vi voglio dare, alla prima cosa che voglio mettere subito, sul tavolo, insieme. Le persone felici sono concentrate sul presente. e invece nella maggior parte delle situazioni della nostra vita noi siamo proiettati al passato. Sapete? È un mesetto da quando sono tornato a Dubai, è il primo mese, che avrò fatto 120, 130 appuntamenti con imprese, imprenditori, nuovi progetti, stiamo studiando nell'NFT, stiamo mettendo in piedi due attività nuove, abbiamo fatto quattro aziende nuove che fanno un percorso di formazione con noi, quindi costantemente con chi fa impresa. E la cosa che, e qui parlo agli imprenditori, che mi viene detta più spesso, è nel 2019 facevamo, pre-Covid facevamo. Perché il benchmark è il pre-Covid. E da una parte capisco, dall'altra ti serve veramente a poco. Il passato è passato. Quando noi esageriamo nel vivere del passato, scrivete il passato è pieno zeppo no, il passato è pieno zeppo di rammarichi, è pieno zeppo di rimpianti, il passato è pieno zeppo di cose che avrei voluto, mi sarebbe piaciuto. Ma il passato ha una caratteristica, non può essere cambiato. E questo ci porta spessissimo a proiettare tutto quanto anche nel futuro. E quando noi viviamo nel futuro siamo pieni di ansie, siamo pieni di frustrazioni, perché ci aspettiamo delle cose che poi non sempre avvengono. In realtà ci perdiamo l'unica cosa che possiamo controllare. L'unica. L'unica cosa che possiamo controllare è questa, perché se ci pensate il presente che cos'è? È quell'anello di congiunzione che fa diventare il futuro passato. Il presente è quell'anello di congiunzione che fa diventare ciò che chiamavamo futuro. Le 15 e 40 e 39 sono futuro, ma fra un minuto sono passato. Il presente è l'unico momento su cui possiamo incidere, in cui possiamo fare qualcosa. E chi lo inizia a apprezzare, chi si rende conto che è qua che noi possiamo esercitare il nostro potere, che noi possiamo essere causa noi siamo felici quando siamo causa e siamo sempre incazzati infelici quando siamo effetto, quando subiamo le cose. Pensateci, anche in una situazione dolorosa come una separazione che è sempre dolorosa per tutti, ma chi soffre di più? Chi lascia o chi viene lasciato? Chi viene lasciato? Certo, è doloroso per entrambi, ma chi viene lasciato di più perché perché è un effetto. Invece quando tu decidi, quando tu scegli, e allora è proprio questo che noi dobbiamo allenare in questi tre giorni, scrivetelo, il PAT è un corso di allenamento alla scelta, a questo grandissimo potere che noi abbiamo nel 2022, non che non lo avessimo cinque anni fa, dieci anni fa, non che lo avessimo mille anni fa, però è evidente che più andiamo avanti, più tutti noi abbiamo possibilità di conoscere, di scoprire, di avere le informazioni portate di mano, di poterle reperire. Noi abbiamo il libero arbitrio quasi totalmente esprimibile. Solo la generazione dei nostri genitori poteva scegliere, ma con un arco molto più ristretto. Invece noi possiamo scegliere. Amen.